La battaglia della foresta di Teutoburgo La battaglia della foresta di Teutoburgo, avvenuta il 9 d.C., fu una delle più gravi sconfitte subite dall'esercito romano. Un'alleanza di tribù germaniche, guidata da Arminio, comandante delle truppe ausiliari e di Pubio Quintilio Varo, governatore della Germania, annientò tre legioni romane, circa 20.000 uomini. La battaglia ebbe luogo nei pressi dell'odierna località di Calcriese, nella bassa Sassonia. Varo era in marcia per ricongiungersi con l'imperatore Augusto, che si trovava in Gallia. I romani, che erano impegnati in una campagna di espansione verso nord, avevano già conquistato gran parte della Germania. Tuttavia, i germani, che erano un popolo guerriero e indipendente, non erano disposti ad accettare la dominazione romana. Arminio, che era un cherusco, aveva ricevuto un'educazione romana e prestava servizio nell'esercito romano. Tuttavia, era segretamente un traditore e aveva tramato contro Varo. Arminio convinse i germani a unire le forze e a attaccare i romani. I romani furono colti di sorpresa dall'attacco dei germani. Le tribù germaniche, che erano a conoscenza del terreno, usarono la foresta a loro vantaggio. I romani, che erano più pesanti e meno agili, furono facilmente sconfitti. La battaglia durò quattro giorni. I romani furono costretti a combattere in una serie di scontri disordinati. Alla fine, furono tutti uccisi o catturati. La sconfitta di Teutoburgo fu un duro colpo per l'impero romano. Augusto fu costretto a ritirarsi dalla Germania e a concentrare i suoi sforzi sulla difesa del territorio già conquistato. La battaglia fu anche un simbolo della resistenza germanica alla dominazione romana. Le conseguenze della battaglia. La battaglia di Teutoburgo ebbe conseguenze significative per la storia dell'Europa. La sconfitta romana impedì la completa conquista della Germania e contribuì alla formazione di un'identità, germanica comune. La battaglia fu anche un evento importante nella storia dell'impero romano. Fu una delle prime volte che l'esercito romano era stato sconfitto da un nemico non romano. La sconfitta contribuì a indebolire l'impero romano e rese più difficile la sua espansione. La battaglia oggi. La battaglia di Teutoburgo è ancora oggi un evento importante nella storia tedesca. La battaglia è ricordata come un simbolo della resistenza tedesca alla dominazione straniera. Il luogo della battaglia, Calcriese, è un sito archeologico importante. Sono stati ritrovati numerosi resti romani, tra cui armi, armature e scheletri. Nel 1875 fu costruito un monumento commemorativo della battaglia, l'Hermansvenkmal. Il monumento è una statua di 53 metri di altezza che rappresenta Arminio, il capo dei Cherusci che guidò la vittoria germanica. La battaglia di Teutoburgo è un evento che ha avuto un impatto significativo sulla storia dell'Europa. La sconfitta romana impedì la completa conquista della Germania e contribuì alla formazione di un'identità, germanica comune. La battaglia è ancora oggi un evento importante nella storia tedesca e viene commemorata in vari modi.